Collegarsi alla centrale A22 utilizzando il software Atrium ed effettuare il login Avvicinare la tessera da abilitare al lettore In basso compare l'evento Accesso negato Cliccare sul pulsante Aggiungere a fianco A questo punto comparirà la finestra di registrazione della carta Nel campo Etichetta digitare l'identificativo della carta Cliccare su Aggiungere Digitare il nome dell'utilizzatore della carta Digitare il cognome dell'utilizzatore della carta Cliccare su Assegnare per assegnare un livello di accesso Selezionare il livello di accesso Access Level Always Cliccare su OK Cliccare su Salva Provare la tessera appena abilitata sul lettore Il LED verde indica accesso consentito Grazie per la fiducia che riponete nei confronti della nostra azienda Grazie per la fiducia